benvenuti a si viaggiare questa settimana vi portiamo in viaggio sul treno di dante nel cuore dell'appennino tosco romagnolo alla scoperta delle terre che il sommo poeta visitò nel suo cammino tra firenze e ravenna un viaggio speciale lungo una tratta ferroviaria inaugurata nel 1893 che attraversa antichi borghi boschi selvaggi e mulattiere e a bordo di un treno storico il mitico cento porte massimiliano clarizio nel mezzo del cammin di una giornata di primavera ci ritrovamo per una selva che non era oscura anzi luminosa e lussureggiante che la dritta via lunga 136 chilometri del binario unico che attraversa l'appennino tosco emiliano da firenze a ravenna una volta era smarrita ora ritrovata e tutto questo grazie al viaggio a bordo del treno storico cento porte di inizio novecento messo a disposizione della fondazione fs italiane accompagnate dai versi e dalle storie raccontate dal sommo poeta in persona e da sua sorella è un'esperienza immersiva indimenticabile per studiare i luoghi che hanno ispirato la più grande opera letteraria italiana e la storia della ligheri da firenze dove il poeta nacque nel 1265 a ravenna che lo spiegò negli ultimi anni di esilio fino alla morte nel 1321 sedili di velluti rossi interni in legno il viaggio sul treno di rante iniziativa lanciata due anni fa in occasione del settecentenario dalla morte della ligheri è ripartita quest'anno all'insegna di un percorso lento nella storia ma anche nella bellezza dei luoghi che hanno dato i natali a giotto e beato angelico si passa per marradi la cittadina celebre per le ottime castagne per poi fare tappa a brisighella non poteva non fare tappa in questo bellissimo paesino che è citato nella divina commedia riferimento al feudatario e maginardo pagani da susinana che viene citato sia nel canto ventisettesimo dell'inferno che nel 14esimo canto il purgatorio e poi non dimentichiamoci che brisighella è uno dei borghi più belli d'italia e dove si svolge la sentitissima festa della spoglia lorda sto facendo la spoglia lorda è la pasta tipica di brisighella ed è fatta con si fa la sfoglia ben rotonda mi raccomando poi in una metà si stende il ripieno che si fa a base di ricotta parmigiano scocquerone sale noce moscata e un uovo poi si ripiega l'altra metà e si tagliano tutti i quadrettini e va cotta in brodo assolutamente in brodo tanto gentile tanto onesta pari la donna mia quando è l'altrui saluta benvenuti sul treno di tante praticamente un treno che hanno dedicato al mio nome e di conseguenza da bisighella si passa a faenza per arrivare appunto a ravenna la città in cui sommo poeta completò la composizione del ciclo della commedia e trascorse gli ultimi anni della sua vita è bellissimo un viaggio nel passato poi ci riesce puoi apprezzare il viaggio il viaggio ti raccontano la storia incontri dante anche sua sorella forse qualcun altro è proprio bellino veramente bellino qui si visita la tomba del poeta vicino alla quale ci sono la casa e il museo a lui dedicato è tempo di ripartire per tornare a firenze la consapevolezza di tutti i passeggeri è quella di aver vissuto belle emozioni molto bella sarebbe da ripetere volentieri mi dispiace che siamo alla fine è stata una bella esperienza e ancora c'è il viaggio di ritorno e ci vogliamo dai finestrini pian piano il treno meraviglioso è proprio vecchio vecchio è bellissimo è stato molto emozionante anche fatto di tirare giù i finestrini anche di non avere un caricabatterie emozioni che si possono vivere ancora dopo la pausa estiva infatti le corse riprenderanno dal 2 settembre fino al primo novembre grazie Grazie a tutti